La lotta è ancora incerta. Tanto l'Olanda, quanto l'Italia, quanto la Germania orientale possono vincere la medaglia d'oro. Mentre non sono molto lontani, nemmeno la Danimarca e gli Stati Uniti. L'unica formazione che ha venuto parecchio è quella della Germania occidentale. Sembra circoscriversi la lotta ad azzurri e olandesi che lottano un po' filo dei centimetri. I padiali sono in testa di circa due metri. Procedono verso la medaglia d'oro, mentre i geolandesi devono difendersi dall'attacco dei danesi e dei tedeschi orientali. Vince l'Italia. Seconda è l'Olanda e per il terzo posto stabilirà la fotografia tra tedeschi orientali e danesi. L'Italia conquista la prima medaglia d'oro dell'Olimpiode per merito di Baran Estampo.